Musica Giusto e doveroso parlare di risultati, di cifre, in base alle performance, la trasparenza chiede questo. Però, come dice la canzone, c'è di più. C'è un passaggio, quello che l'IRCA sta facendo in questi anni, in qualità di ente essenziale per la ricerca, il passaggio dal tema della malattia di per sé, dagli organi che vengono scelti come segnalazione della stanza, come diceva in questo incontro, magari poi ci spiegherà meglio, dalla malattia alla persona che subisce, che sente la malattia, ma poi un passaggio ulteriore alla persona che sta dentro il malato. Questo è un po' il percorso che state facendo in questi mesi. Sì, naturalmente, insomma, questa mattina è l'occasione per l'Istituto per rendere conto anche il complesso delle attività che ha messo, sta mettendo in campo per rendere sempre più il cittadino partecipe in maniera consapevole del percorso di cura e di presa in carico cui viene sottoposto. Nello stesso tempo, l'Istituto, attraverso sia la parte di ricerca, ma soprattutto la parte di assistenza, sta cercando anche di concentrarsi in maniera sempre più puntuale come attenzione sulla persona, insomma, sul paziente, sul malato, ma inteso come persona e quindi mettere in campo tutta una serie di attenzioni che vanno al di là dell'aspetto meramente prestazionale. Aspetto questo che dovesse essere assolutamente naturale, insomma, inevitabile, però ecco in un tempo, in un contesto in cui per una serie di motivazioni ci si concentra, e molto inevitabilmente, sui aspetti prestazionali e quindi anche sui numeri, su come poi si risponde anche a determinati obiettivi di sistema, porre l'attenzione anche sugli aspetti relazionali, umani. Cosa significa trasparenza per l'Irca? Al di là di quelli che sono gli aspetti più strettamente amministrativi e normativi che in qualche modo impongono agli istituti, alle aziende sanitarie, di avere un ufficio che si dedichi proprio al controllo degli atti, al controllo delle procedure di tipo amministrativo che venga con trasparenza e con anche un approccio di anticorruzione. Diciamo che per il nostro istituto è qualcosa che assume un valore un po' più ampio, perché altrimenti così è solo riduttivo di un controllo su se stessi e su come si procede, ma è una modalità di lavoro che noi vogliamo introdurre, che abbiamo introdotto in realtà, ma su cui stiamo sempre lavorando ogni giorno di più. E essere un istituto di ricerca, essere un istituto di ricovero e curva, a carattere scientifico, significa anche che da un punto di vista della modalità di lavoro tu applichi il rigore metodologico proprio della ricerca scientifica a qualsiasi gesto, a qualsiasi atto, a qualsiasi procedura che tu fai nella tua vita quotidiana e professionale. Quindi significa l'augurio, diciamo, qual è? È quello di passare da un concetto di autoreferenzialità a un concetto di metodo rigoroso, basato sull'evidenza, per cui a quel punto non ti spaventa più avere un approccio trasparente, sia nelle relazioni con i tuoi colleghi, sia nelle relazioni con i pazienti, sia nelle relazioni con i familiari. Qual è il rapporto perfetto medico-paziente? C'è un cardine, due cardine, tre elementi che facciano capire che l'IRCA, da questo punto di vista, è all'avanguardia anche in termini di ricerca? Allora direi che proprio l'approccio tipico della mentalità geriatrica è quello di lavorare non sulla singola malattia. Perché? Perché quando noi pensiamo al paziente anziano è difficile che ci abbia una malattia soltanto, no? Ce ne ha tre o quattro, prende farmaci non per una malattia, ma ne prende per tanti. Allora noi abbiamo introdotto come proprio approccio scientifico, sto parlando dal punto di vista geriatrico, gli strumenti di valutazione multidimensionale. Per cui quando affrontiamo l'anamnesi, quando raccogliamo la storia dei nostri pazienti, dei soggetti che arrivano nei nostri ambulatori o nei nostri reparti, noi guardiamo non soltanto agli apparati, quali sono le malattie che ha, quali sono i farmaci che ha, ma guardiamo a tutta una serie di aspetti che possono andare dal tono dell'umore, l'eventuale presenza di depressione o meno, un rischio di cadute. Ma nel caso del rischio di cadute, per esempio, vai a chiedere se come è organizzata la casa, no? Se ci sono delle barriere architettoniche, tappeti, cavi, eccetera, che possono aumentare il rischio. Quindi anche un'attenzione all'ambiente, agli aspetti abitativi. Considerando le 82 unità operative dell'istituto, noi abbiamo rilevato che il 28% di queste unità operative non hanno raggiunto tutti gli obiettivi negoziati ad inizio anno con la direzione generale, mentre la restante parte ha raggiunto il 100% dei risultati. Gli obiettivi sono sia di carattere economico, quindi i valori della produzione da erogare o spese da sostenere per consumi, sia obiettivi di tipo qualitativo o sanitario, ad esempio introduzione di una procedura per il trattamento dell'antidecubito, delle lesioni da decubito dei pazienti, o altro tipo di procedure, o obiettivi scientifici, quindi il raggiungimento di determinati livelli di impact factor, che è il criterio con il quale sono valutate le unità operative da un punto di vista scientifico. La trasparenza protagonista ed è giusto e doveroso che sia così anche cittadinanza attiva. Che messaggio arriva da questa giornata? Il messaggio che vogliamo dare è che la trasparenza per noi, associazione di cittadini che si occupa anche di salute attraverso la sua rete del Tribunale per i diritti del malato, è che la trasparenza è una parte integrante del percorso di cura, perché alla base della trasparenza vi è la comunicazione, e qui devo dire che all'IRCA da molti anni a questa parte c'è molta attenzione, sia al tema della trasparenza e anche della partecipazione. Del resto cittadinanza attiva, così come altre associazioni, fanno parte del comitato di partecipazione costituito presso l'IRCA e che si occupa proprio tra le altre cose di collaborare con l'istituto per affrontare tutta una serie di problematiche che possono sorgere e che possono riguardare gli utenti di questo istituto anche nell'ambito dei rapporti tra medico-paziente, insomma le segnalazioni, i reclami che l'istituto riceve. Padre Alberto Maggi, della serie Chi in umore si rivede la malattia non come una sofferenza, una penitenza divina addirittura, ma come un'occasione per riscoprire la forza dentro di noi, come dice Don Paolo, è quando sono debole che sono forte. Sì, di fronte alla malattia si possono avere due atteggiamenti. Una è quella del perdente, quello che si avvilisce e incomincia a lamentarsi perché è proprio a me. E la malattia ha già vinto. L'altra è quella del vincente che vede la malattia come una sfida, come un'opportunità di crescita, di dire vediamo da questa situazione che è negativa che cosa mi potrà venire di buono. E già ha vinto sulla malattia. Lei in questo senso ha avuto un'esperienza che dimostra che si può con coraggio e anche con fede superare ogni ostacolo, ogni avversità. E ha deciso di tramandare questo testimone. Sì, è un'esperienza che feci anni fa di tre mesi in terapia intensiva, di dolore, di sofferenza. Ne è nato un libro che, dico, valeva la pena stare male quei tre mesi per il bene che sta facendo. È diventato addirittura il libro di testo nelle facoltà di medicina e aiuta tante persone. Don Magi stamattina l'abbiamo invitato un po' per questo. Cioè lui anche nella rilettura, insomma, come biblista, cioè del Vangelo, quindi tutto il tema del fine vita, della morte e così via. Però Don Magi sempre più pone l'attenzione sulla responsabilità dell'individuo. Va bene tutto il contesto normativo, disciplinare di riferimento, ma se poi non c'è un individuo che agisce in maniera consapevole mettendo al centro del proprio agire il valore profondo della relazione, il valore profondo del rispetto dell'altra persona che poi a lui si affida, tutto il resto a volte rischia di essere vissuto come spesso accade, come situazioni magari fredde, asettiche e che non fanno apprezzare veramente poi il grandissimo impegno, la grandissima competenza e i grandi risultati che poi si ottengono nel percorso di cura. Se viene meno l'aspetto della responsabilità del singolo anche su questi ambiti, il rischio anche che tutto quello che noi facciamo venga percepito in maniera limitata e poi, ecco, è Don Magi su questo per noi, insomma per me, comunque aiuta a rimetterci un po' in discussione. L'abbiamo invitato per questo. L'abbiamo invitato per questo.